Beh, come sindacato, l'unico insomma che sostiene alcuni lavoratori della SOS siete riusciti allo scoperto. C'è uno stato di agitazione vero e proprio adesso, non si può più far finta di nulla? Direi proprio che non si può addirittura farne a meno, non soltanto finta di nulla. Tengo a precitare che non è l'unica sigla sindacale presente in azienda, ce ne sono altre. E' chiaro che però, come dire, il problema oggi ricade soltanto sugli iscritti della CGL. Sarà un caso o meno, non so che dire. Abbiamo fatto in queste settimane i mille tentativi, sia discutendo con la SOS che provando anche a fare intervenire l'amministrazione, non siamo riusciti a cavare un ragno dal buco. Anzi, nelle ultime ore, piuttosto che trovare delle soluzioni perché tutti e 14 i lavoratori fossero avviati in aggiunta agli altri, prima possibile. La SOS ci ha comunicato che invece potrà avviarne, visto il fatto che Erice Vetta non partirà, soltanto 7 e basta. Quindi altri 7 rimarranno fuori. Nella migliore delle ipotesi farebbero una rotazione fra loro, un gruppo di 7 e un gruppo di 7, fin tanto che c'è la disponibilità dell'ammortizzatore sociale. In alternativa, non c'è possibilità di lavoro. Stiamo parlando di lavoratori a tempo indeterminato esattamente come gli altri. L'unica differenza fra gli altri che oggi sono in servizio è che quelli che oggi sono in servizio hanno un contratto a tempo indeterminato di tipo verticale, ma attraverso un accordo con le organizzazioni sindacali c'è anche una fascia temporale e un numero di ore garantito che questi lavoratori dovrebbero fare. Sembra che anche questo, che questo stesso, non sia garantito da qui alla fine dell'anno. In tutto questo l'amministrazione comunale sembra quasi volersi girare dall'altro lato. L'amministrazione comunale non posso dire che abbia la voglia o l'intenzione di girarsi dall'altro lato. Probabilmente arranca un po' a individuare esattamente un'eventuale soluzione. Perché seppure ha dato a noi organizzazioni sindacali e ai lavoratori la sensazione che volessi affrontare il problema, però di fronte ad aspetti organizzativi ci dice, e chiaramente così è per la verità, che sono aspetti che riguardano l'azienda e non l'amministrazione. Ritengo però che non sia solo e soltanto un problema di natura organizzativa, tecnica organizzativa, ma in questo caso è un problema prettamente politico e aggiungo anche di carattere sociale. Proprio per l'emergenza che stiamo vivendo in questo momento stiamo parlando di lavoratori che già dal mese di ottobre dell'anno scorso non lavorano e quindi hanno serie difficoltà di natura economica. Allora, rispetto a questo io ritengo che al di là dell'aspetto che può essere di natura tecnico-organizzativa, in ogni caso un problema di natura prettamente politico e sociale debba essere di interesse particolare da parte dell'amministrazione che ricordo è l'ente appaltante, non è l'amministrazione che non c'entra nulla in questo contesto. C'entra sì e come. Con tutte le difficoltà del caso mi rendo conto, ma io ritengo che un minimo di sforzo in più l'amministrazione possa farlo e debba farlo.